story time evoluzione radio ci sono in compagnia di roberto e franco ciao benvenuti ciao 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 allora oggi è tanto grazie per aver accettato il nostro invito e quindi siete uno di qui oggi per presentarci la vostra realtà il vostro progetto che si chiama exit dream 2 giusto esatto nasce questo progetto di noi sì che ci conosciamo dall'84 ok ognuno ha preso la sua strada musicale e poi ci siamo ritrovati di nuovo dall'84 quindi allora che vi conoscete è lui il più vecchio no lo sono io non si direbbe non si direbbe ma non mi metto a sindacario su questo come guarda beh allora diciamo che il pizzetto questo qui rende molto più giovani in effetti no posso dire che siamo anche musicisti e non solo vocalisti ah giusto giusto non solo vocalisti diciamo che il progetto exit dream lo dico subito velocemente sì è un nuovo progetto perché noi parani parani abbiamo sempre fatto le cover di new troyes avevamo una cover band di new troyes che abbiamo portato parani e a questo punto però io e franco abbiamo detto basta basta però già al 3 marzo ne abbiamo un concertino perché purtroppo ci porti sempre dietro quello che hai fatto parani e anni chiaro vado a omaggiare vittorio descalzi che non c'è più di new troyes allora ci hanno chiamato per fare queste queste parti queste queste parti qua certo beh comunque insomma sono cose sempre interessanti assolutamente poi quando il passato diciamo è un qualcosa che sia che ti ha cresciuto che ci cresce quindi ok è bene diciamo abbandonarlo però non dimenticarlo mai e fa la scorsa eh sì assolutamente diciamo diciamo che il progetto nuovo stiamo facendo anche un cd delle 16 canzoni principali certo si basa sulla musica di una canzone e le parole di un'altra ti faccio un esempio noi facciamo jump si cantando il 16 marzo di Achille Lauro addirittura si l'abbiamo copiato praticamente dai dj che usano il mashup certo però non abbiamo mai visto fatto dal vivo chiaro noi abbiamo deciso di farle questo chiaro story time evoluzione radio